omicidio a fanano ottantenne uccide la moglie a coltellate dopo le feste file chilometriche al centro vaccini ancora criticità sociali e di degrado in galleria roma questa sera la finale di master fish su rossini tv buona serata a tutti voi amiche amici telespettatori di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre ben ritrovati a rossini news il nostro notiziario che torna dopo qualche giorno di pausa per le festività natalizie festività che ci auguriamo siano state le più serene possibili per tutti voi telespettatori purtroppo però siamo costretti a riprendere il nostro appuntamento con l'informazione con una notizia davvero terribile c'è stato infatti un omicidio e più precisamente un uxuricidio la notte fra natale e santo stefano nella tranquilla frazione di fanano di gradara dove un ottantenne ha ucciso a coltellate la moglie di 61 anni il servizio la quiete di fanano è stata frantumata da un brutale femminicidio consumatosi nella notte fra natale santo stefano la vittima 61enne di origine ucraine si chiama natalia kirichok il carnefice di 80 anni è il marito vito cangini fino a natale del tutto incensurato e da ieri arrestato per omicidio volontario dopo aver ammesso ogni responsabilità in merito all'uccisione della moglie nella loro casa di fanano di gradara una casa dove si è consumato il delitto con cangini che ha ucciso la compagna sferrando le almeno quattro coltellate al petto il movente la gelosia e soprattutto il rifiuto ad un rapporto sessuale la sera di natale da parte della donna secondo la ricostruzione dei primi interrogatori degli inquirenti natalia avrebbe rifiutato un amplesso e l'ottantenne si sarebbe accanito con cieca ferocia sulla donna lasciandola senza vita natalia era in italia da più di vent'anni e lavorava come cameriera in un ristorante di misano adriatico da 17 anni era sposata con vito cangini e proprio il titolare del ristorante ha ricevuto nel tardo pomeriggio di santo stefano una telefonata dallo stesso cangini dove l'uomo raccontava che natalia non sarebbe venuta al lavoro perché l'aveva uccisa il ristoratore ha così segnalato la telefonata ai carabinieri di cattolica e sono subito scattate le verifiche che hanno presto constatato la veridicità dei fatti i carabinieri di pesero e di gabice sono infatti presentati nella casa di fanano dove cangini sembrava attenderli da un momento all'altro ed è stato lui stesso a mostrare il cadavere della donna riverso a terra l'ottantene è stato così arrestato per omicidio volontario e recluso nel carcere di villa fastigi la ricostruzione fornita dal medico patologo ha fornito i primi dettagli su una morte che sarebbe sopraggiunta per una cifra compresa fra 4 e 6 coltellate al petto di cui un al cuore e ricostruzione che sarà ulteriormente chiarita dall'autopsia i carabinieri hanno anche ripercorso il natale folle di cangini che ha ucciso la moglie per il suo rifiuto a fare sesso che ha trascorso la notte dormendo a due passi dal cadavere riverso a terra e ha fatto altrettanto pranzando il giorno dopo un santo stefano che cangini avrebbe trascorso anche consumando parecchi alcolici fra casa e alcuni bar del paese una giornata in cui avrebbe pure rivelato il delitto ad altre persone persone che non gli hanno creduto fino al ristoratore che ha dato l'allarme che ha poi scoperchiato il barbaro delitto e dunque una notizia davvero drammatica che tra l'altro vi raccontiamo a tre anni esatti da un altro omicidio di natale che scosse il nostro territorio ricorderete quello di marcello bruzzese ucciso nella centralissima via bovio di pesero il 25 dicembre del 2018 ma ora cambiamo argomento e apriamo la pagina relativa alle tematiche della pandemia dopo le festività di vigilia natale santo stefano oggi è stato letteralmente preso d'assalto lab vaccinale dell'ex ristò di pesero le immagini che vi mostriamo ci giungono da alcune segnalazioni di telespettatori che ringraziamo ed evidenziano code davvero interminabili poco dopo l'apertura del punto vaccinale alle ore 14 code motivate soprattutto dall'urgenza delle terze dosi di fronte alla dilagare di casi di covid 19 anche fra chi è vaccinato con due dosi oggi al punto vaccinale del rossini center erano attesi 394 prenotati con circa 200 dosi extra per i non prenotati che però si sono presentati in cifra superiore ricordiamo invece che da domani 28 dicembre si parte anche nelle marche con le terze dosi di vaccino ai minori fra 12 e 17 anni che hanno effettuato la seconda dose da almeno cinque mesi le prenotazioni sono partite oggi e all'ultimo aggiornamento delle ore 17 ne risultavano 1700 si sono ridotti i tamponi processati nel periodo di festività natalizie ma non si riduce la percentuale di contagio che si attesta al 13 per cento con 309 casi rilevati oggi di cui 53 in provincia di pesero urbino è una incidenza che ora è a 337 casi settimanali ogni 100 mila abitanti sono invece saliti a 245 i ricoveri nelle marche con 42 casi in terapia intensiva cioè 4 in più di ieri con una occupazione delle terapie intensive che ora sale al 16,8 per cento 4 i decessi registrati oggi tutte donne una 96enne di pesero una 93enne di monte calvo in foglia una 90enne di esi e una 87enne di sant'elpidio amare ed è un dicembre di animi tesi a marche nord dove nelle ultime ore diversi medici e infermieri si sono schierati in favore del primario del pronto soccorso di pesero umberto gnudi che aveva evidenziato come il reparto d'emergenza fosse da terzo mondo per quello che riguarda la struttura pesarese mentre invece nella vigilia di natale sono stati diversi i primari di marche nord che si sono sposti in favore dell'azienda ospedaliera dissociandosi da gnudi come mostra questo servizio è stato un natale turbolento quello che ha coinvolto l'azienda ospedaliera di marche nord che ha visto contrapporsi da una parte il dottor gnudi sostenuto dai medici e dagli infermieri del pronto soccorso di pesero e dall'altra i primari dell'azienda stessa un botte risposta acceso tra la vigilia di natale e santo stefano accomunato da un problema di fondo la mancanza di personale e di posti letto disponibili non è infatti andata giù ai primari dell'ospedale di pesero la dichiarazione del medico umberto gnudi che poche settimane fa aveva etichettato il pronto soccorso della città come una realtà da terzo mondo chiara e puntuale è stata infatti la risposta arrivata dai vertici dell'azienda ospedaliera marche nord che nella giornata del 24 dicembre hanno organizzato una conferenza stampa per prendere le distanze dalle dure parole pronunciate dal loro collega nel mese scorso non siamo un ospedale terzo mondo è stato fatto un danno d'immagine che questo ci rammarica molto per noi ma soprattutto per tutte le donne e gli uomini che lavorano a vario titolo dietro ogni paziente noi siamo impegnatissimi le versante covid i 41 letti di rianimazione lo dicono a chiare lettere le subintensive le decenze ordinarie i numeri ce lo dicono ma di fianco dobbiamo e facciamo trattare tutti i pazienti con patologia non covid che hanno la stessa dignità con la stessa importanza permettetemi forse anche di più in questo momento c'è una difficoltà a trovare nuovi medici a livello nazionale vi assicuro che la direzione sta facendo giorno e notte l'impossibile per darci a disposizione tutti i medici possibili il grido di dolore di nudi è assolutamente comprensibili ci sono delle situazioni di grande disagio disagio che però la direzione e noi operatori cerchiamo di venire incontro ripeto con il 2 di gennaio dei medici dei reparti andranno a dare una mano ad affiancare i pazienti del pronto soccorso di più non si riesce a fare il pronto soccorso è il punto proprio di contatto diretto di una realtà e deve essere migliorato il resto ha continuato a funzionare bene qualsiasi ospedale ha qualche problema anche quelli che voi vedete come maggiori fuori per noi che siamo esperti del delle conoscenze anche di altri colleghi sappiamo che cosa succede anche da altre parti quindi parte nord ha tenuto bene per ora incrociamo le dita che continua a tenere anche adesso con questo nuovo omicron che è venuto fuori però se la metteremo tutta finché noi non consideriamo l'area di fano e pesaro come unica realtà metropolitana noi saremo sempre degli sconfetti perché non potremo mai usufruire delle risorse ma sono tante risorse che le due città potrebbero avere che confluiti insieme potrebbero garantire praticamente delle strutture eccellenti che potrebbero dare una sanità di alta qualità vivacchi ubriacchezza molesta e scenari di tossicodipendenza continuano a gravitare nella centralissima galleria roma di pesaro vediamo rossini tv è tornata ad accendere le sue telecamere su galleria roma lo fa di nuovo a ruota di alcune segnalazioni di residenti e persone che transitano in questa zona soprattutto in questi giorni di chiusura delle attività del 25 26 dicembre si acuita la problematica sociale e di sicurezza che gravita in questa zona quella di diverse persone responsabili e protagoniste di episodi di ubriacchezza molesta di accattonaggio comunque di accampamenti in questo luogo del centro storico problematica che dicevamo si acuita soprattutto nei giorni di minore transito quello di chiusura delle attività come quello del 25 e 26 dicembre sono passate solo poche settimane da quando proprio in questa zona ai margini della galleria si era verificato un grave episodio di collutazione con tanto di accoltellamento di una persona la situazione però nonostante il continuo monitoraggio delle forze dell'ordine continua a presentare situazioni critiche e di degrado fin dalle prime ore del mattino a radunarsi qui sono persone soprattutto senza fissa dimora persone affette da dipendenze tra l'altro conosciute dalle stesse servizi di politiche sociali delle comune di pesaro come ci ha confermato l'assessore riccardo pozzi assessore alla sicurezza delle comune di pesaro persone che tra l'altro non passano inosservate fino al punto di lasciare tracce di sé anche sull'albero di natale posto sulla galleria roma con messaggi che lasciano poco spazio ad altri commenti abbiamo sollecitato lo stesso assessorato alla sicurezza del comune di pesaro per comprendere quali accorgimenti si possono apportare su questa zona sensibile e la risposta è stata attraverso una nota avviata dal comune di pesaro in cui si legge che due settimane fa il sindaco stesso ha chiesto un incontro a questore e prefetto e durante la riunione a cui hanno partecipato anche l'assessore alla sicurezza riccardo pozzi e la comandante della polizia locale francesca muzzini è stata sottoposta la problematica e analizzati gli interventi praticabili dunque sono stati intensificati passaggi di forze dell'ordine di polizia locale per monitorare la situazione ed emanati diversi ordini di allontanamento nel frattempo insieme all'assessorato alla solidarietà e al coordinamento della ts1 l'amministrazione ha sottoposto la situazione al dipartimento delle dipendenze patologiche di asur chiedendo di riprendere gli interventi di tipo sanitario in particolare i progetti di bassa soglia si tratta di servizi e trattamenti flessibili basati su bisogni individuali degli utenti e rivolto a coloro che non stanno più seguendo le attività di recupero ma che necessitano di un sostegno un monitoraggio costante e un intervento su più linee che l'amministrazione comunale di pesaro si augura possa dare supporto a chi è in difficoltà e allo stesso tempo migliorare il decoro della città altre segnalazioni di voi telespettatori accendono l'attenzione su alcuni episodi di ladri scatenati a pesaro in questi giorni di feste episodi di furti si segnalano infatti in zona muraglia monte granaro e a villa san martino dove è stata anche rubata un'automobile parcheggiata dentro il perimetro di pertinenza di una abitazione e dalle cattive notizie passiamo invece a chi fa del bene in città infatti in questi giorni di atmosfera natalizia alcune interviste del nostro giorgio ricci ci stanno portando ad approfondire diverse realtà della città attente ai malati o a categorie fragili il 23 dicembre ad esempio abbiamo sottolineato l'impegno della fondazione fattori in favore di studenti affetti da disturbi e oggi invece parliamo dell'associazione noi come prima che da 30 anni assiste la causa di donne operate di tumore al seno sentita bene insomma 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 e e quindi sebbiamo fare, se chiediamo a un posto principale e se avviate la vita, qui abbiamo un'altra, è di questa vista, una domanda, e l'altra parte, la città, la vita, la vita, oltre a casa, cioè lì a sempre un po' di questo progetto, Abbiamo anche la possibilità di fare un'attività, 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 un'attività e un'attività. Abbiamo anche le stuove situazioni, ogni struttura, un'attività, un'attività, un'attività e un'attività. Abbiamo anche l'attività di quelle nuove aspettative, una situazione di attività, un'attività di attività e un'attività. il loro vita. Abbiamo anche i momenti, i figli altri, ci si riferono a tutti. Perché è generale più difficile per la sua cosa di tutti. Quando ci riusciamo a fare un'altra cosa. Durante i lavori di scavo per la posa di un collettore fognario di marche multiservizi in località Muraglione di Urbagna sono venute alla luce alcune sepolture di età romana. Si tratta di un piccolo gruppo di quattro tombe forse da collegare a una fattoria romana databili ai primi secoli dell'età imperiale del primo e secondo secolo dopo Cristo. Questa zona infatti era già nota per alcuni rinvenimenti romani negli anni 80. Le sepolture in questione si sono presentate in parte danneggiate dalla costruzione di alcune strutture ottocentesche forse connesse al vecchio tracciato della ferrovia. Ma l'attento scavo archeologico diretto dal dottor Voltolini della superintendenza delle Marche ha permesso di scoprire una notevole varietà di rituali funerari. E parliamo di teatro al teatro della fortuna di Fano. Da domani 28 fino a giovedì 30 dicembre va infatti in scena Parenti Serpenti con Lello Arena diretto da Luciano Melchionna che è il protagonista della divertente e amara commedia di Carmine Amoroso già conosciuta dal grande pubblico grazie al film cult di Mario Monicelli del 1992. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21. E invece domani 28 dicembre alle ore 21 nella chiesa di Cristo Risorto a Pesaro si terrà il concerto Misa Crioia Navidad Nuestra inserito fra gli appuntamenti del 25esimo anniversario della fondazione del coro filarmonico Rossini. Ed ora facciamo un salto avanti alla nostra prima serata di questo lunedì alle 21.30 su Rossini TV va infatti in scena l'atteso appuntamento con la finale di Masterfish che vi anticipiamo in questo servizio. Cala il sipario su Masterfish 2021. Lunedì 27 dicembre alle 21.30 va in onda la finale del format realizzato da Rossini TV e prodotto da confesercenti Pesaro Urbino che ha messo in gara dieci cuochi amatoriali cimentatisi con passione e maestria con la cucina del pesce del nostro mare. Cinque finalisti emersi da cinque ristoranti in cui Rossini TV ha girato altrettante puntate. Al settima fila alla baita da Gibas alla Canonica e allo Scudiero. Questa sera la sesta e ultima puntata al ristorante Consapore dello spazio Kona di Via Gagarin che decreterà il finalista di un'edizione che ha coinvolto la grande partecipazione dei ristoranti, degli studenti dell'alberghiero Santa Marta e del coordinamento dell'enogastronomo e sommelier Otello Renzi. Il tutto presentato dalla conduzione di Paolo Pagnini e Roberta Esperide. Ci siamo, siamo arrivati alla finale di Masterfish. Naturalmente dopo cinque semifinali abbiamo i concorrenti pronti che scalpitano. In realtà come i nostri telespettatori sanno la finale è già stata registrata ma nessuno ha fatto trapelare niente, non si sa ancora nulla per cui il bello sarà seguire questa finale. La finale andrà in onda il 27, lunedì 27 alle 21.30 in prima tv e per tutti quelli che naturalmente con gli impegni delle feste non riuscissero a seguirla. Subito il giorno dopo una replica immediata alle 21.45 per cui due momenti importantissimi. Seguiranno poi altre repliche ma attraverso questa finale scoprirete e scopriremo tutti finalmente chi si sarà aggiudicato il titolo di Masterfish 2021. Finale di Masterfish che abbiamo anticipato oggi rispetto alla programmazione originaria che la collocava nella data di domani per evitare concomitanze con la nostra trasmissione in diretta della partita dell'Ital Service che domani era impegnata a Ciampino con la Niene. E' però notizia di questo pomeriggio che la partita dell'Ital Service è stata rinviata a data da destinarsi per alcuni casi di positività al Covid-19 emersi negli avversari laziali. E dunque domani non ci sarà la partita dell'Ital Service su Rossini TV come spiega il prossimo servizio che soprattutto celebra la vittoria della VL a Brindisi nel match giocato a Santo Stefano. La Carpegna Prosciutto Basket Pesero chiude al meglio il suo 2021 con la quarta vittoria nelle ultime cinque partite giocate e con un altro finale trilling che questa volta la premia e la porta a vincere 89-91 in casa dell'Eppi Casa Brindisi. Finale col brivido perché sulla sirena finisce sul ferro la tripla di Perkins che avrebbe significato sorpasso nonché la seconda sconfitta consecutiva all'ultimo secondo. E invece no, e francamente sarebbe stato troppo per una VL che si prende con merito la vittoria al termine di una gara emozionante e incerta in cui i biancorossi hanno ragione di Brindisi venendo presi per mano dalle prestazioni di Lamb e di Jones oltre ad un ottimo Zanotti. Banchi si prende due punti d'oro ma non si accontenta reclamando più cinismo per il futuro. Portiamo a casa una vittoria preziosissima frutto di una prestazione a tratti molto consistente alla quale non siamo stati capaci di dare continuità soprattutto nei due momenti chiave nei quali Brindisi è stata brava a rientrare dopo aver accumulato nove punti di svantaggio nel primo tempo e poi un altro mini parziale nel secondo che sembrava aver indirizzato la partita. Le parti del gioco dove siamo mancati più sono sicuramente i rimbalzi dove abbiamo concesso ai nostri avversari troppe seconde opportunità e su quelle sono stati bravi a costruire le loro rimonte. E poi nel finale a decidere sono stati episodi legati all'eccellente intercetto di Jones sulla loro rimessa purtroppo rischiando di vanificare tutto quanto fatto con una gestione scellerata degli ultimi secondi bene la nostra precisione dalla lunetta e in generale ho detto una buona presenza purtroppo non espressa con quella continuità e con quell'attenzione che sarebbe servita per tenere a distanza una squadra come Brindisi che non dimentichiamo stasera faceva meno di Adrian ma resta una squadra che ha grande talento. Partita importante quella di Brindisi non solo perché la VL ha vinto ma anche per il semplice fatto che ha potuto giocare. Quella di Brindisi è stata infatti l'unica gara disputata su sette previste a Santo Stefano. Per il resto i contagi da Covid-19 stanno stravolgendo il calendario ad ogni latitudine risparmiando in questa occasione solo l'incrocio fra Brindisi e Pesaro e quello fra Treviso e Brescia in campo nel posticipo del 27 gennaio. Covid che ha messo lo Zampino pure nel volley facendo rinviare a data da destinarsi il match inizialmente previsto a Santo Stefano della Megabox che doveva scendere in campo a Roma ma che ha visto arrivare lo stop per casi di positività fra le capitoline dell'Acqua e Sapone. Ed è arrivato oggi anche lo stop per l'Ital Service che doveva essere il 28 dicembre in campo a Ciampino contro la Niene ma la gara di campionato è stata rinviata per alcuni casi di Covid-19 emersi nella squadra laziale. L'Ital Service tornerà dunque in campo il 4 gennaio a Eboli in occasione della gara di Supercoppa. E si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Prima di salutarvi vi ricordo la nostra programmazione di questo lunedì sera che comincia alle ore 21.20 con un'altra puntata di Check Up Obiettivo Salute il nostro format realizzato in collaborazione con Fisioradi Center. Parleremo questa sera con la dottoressa Giovannini, medico-chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia delle patologie dei tendini e dei trattamenti dedicati appunto a queste patologie. Appuntamento alle 21.20, prima replica alle 23.15 e poi tante repliche dal martedì alla domenica come potete vedere in grafica. Ve lo abbiamo anticipato nel TG, questa sera è la grande serata della finale di Masterfish alle 21.30 dopo le cinque puntate che hanno prodotto altrettanti finalisti questa sera si decreterà il vincitore di Masterfish Il Pesce Va in Onda. La finale verrà trasmessa dallo spazio Conad, dal ristorante Consapore dello Spazio Conad questo format che è realizzato da Rossini TV è prodotto da Confesercenti Pesero Orbino con la conduzione dei nostri Paolo Pagnini e Roberta Esperide che vedete in grafica. Appuntamento alle 21.30 e diverse repliche a cominciare da domani alle 21.45. E dunque non perdetevi Masterfish questa sera, una grande prima serata in questo lunedì di Rossini TV così come non perdetevi i tanti programmi che vi terranno compagnia in queste festività natalizie. È davvero tutto per questa nostra edizione del TG, vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi.